Mangiamolo, fammo le ricette e facciamolo conoscere Lo conoscevi il miglio? È un cereale fantastico, ti faccio una ricetta da paura Una tazza di miglio e due tazze di acqua Un po' di sale grosso Mettici un coperchio e farlo coce per 25 minuti Olio, aglio, cozze, coperchio e farle aprire Divirtiamoci con le verdure e i colori Peperone giallo Peperone rosso, devi giocare con i colori Cozze pronte La cozze è buona quando è umida Guarda come deve essere la cozze bella, morbida e umida Dagli una botta di carta assorbente Non inquiniamo Olio di nuovo Aglio, grattuggialo che è più buono Un po' di cipolla ci sta sempre bene Quella fresca Peperoni Dopo un motoretti è periodo Soffrendo se ci metti Ma un po' di proteine ci volevo mettere Ceci Peperoncino Sale Il liquido delle cozze Poi diventa più buono Assaggiate sempre Ammazza che buono Ci siamo, stop Quando è pronto il miglio Si presenta così Mettete un goccio d'olio Sgranatelo leggermente Ma il miglio non è solamente buono È un cereale che può crescere Anche in climi molto difficili Aiutiamo la FAO a condividere questo messaggio Così combatteremo anche la fame del mondo Mettete il miglio prima Le verdure Ecco così Buone, colorate Per chi ama il pesce Ci sono anche le cozze Il verde del cipollotto Io ho fatto la mia Ma fate pure voi la vostra ricetta E condividete Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti